Considero questo un accordo di respiro europeo e voglio dire che questo accordo dimostra che si può collaborare sul fronte della gestione dei flussi migratori, si può collaborare a 360 gradi e si può e si deve collaborare particolarmente con quelle nazioni che europee sono. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.